Antonio Rinaldi per il Gruppo ID. Grazie Presidente Tinagli, grazie Dottor Neria. La politica monetaria dell'Unione, insieme a quella fiscale, hanno risposto prontamente a supporto della grave crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19. Lo stesso non può dirsi invece per le regole sulla definizione del PAS2 che identificano i crediti scaduti o sconfinanti da più di 90-180 giorni che rientrano nel novero delle posizioni di default e degli NPL. Purtroppo a breve termineranno le moratorie concesse e imprese e famiglie saranno trattate come se fossimo in una condizione di normalità. Emergono già i primi segnali di maggiore attenzione al credito da parte delle banche e questo potrebbe dare luogo nell'eurozona a moltissime bancarotte e fallimenti non dovuti, come afferma la stessa Banca Mondiale in un report del 2020. Il mio partito, la Lega, ritiene che sia necessario continuare a sostenere famiglie e imprese fino alla fine reale della pandemia, cioè finché non sarà terminata la campagna di vaccinazione e fino a quando non si sarà riacquistata la normalità e che la via da seguire non è più quella delle moratorie, ma bensì quella della revisione delle regole. Ad esempio, una normativa che consenta la prelazione individuale sulla vendita in blocco di NPL da parte di vecchi debitori. La scorsa settimana, in uno scambio con la Presidente Lagarde, è emerso che recentemente lei ha inviato una lettera alle banche dove richiedeva di analizzare attentamente caso per caso. Stimo molto il suo lavoro, dottor Nerria, e so bene che non è lei a scrivere le regole, ma è colui che le applica e per questo motivo vorrei una sua autorevole riflessione in merito. La ringrazio. Devo dire che anche le politiche di vigilanza hanno dato una risposta molto rapida alla crisi. Siamo stati la prima autorità a livello globale a fornire misure di sostegno per il settore bancario. Il 17 marzo dell'anno scorso, insieme alle prime misure di politica monetaria, in maniera molto coordinata, siamo intervenuti. Quindi penso che anche nel settore della vigilanza ci sia stata una risposta incisiva. Abbiamo creato margine di capitale, abbiamo fornito sostegno in termini operativi, consentendo alle banche di concentrarsi sul loro lavoro difficile durante i primi lockdown e fornendo delle interpretazioni delle nuove regole, onde evitare prociclicità. Abbiamo anche limitato, o piuttosto proposto di limitare i pagamenti di dividendi per conservare capitale nel settore. Sulla definizione di default, sulle moratorie, sulla definizione di default pensiamo sia fondamentale e questo è un punto che viene sempre presentato al Consiglio di vigilanza, è un punto sul quale abbiamo un parere comune. Pensiamo se è importante creare spazio per le banche affinché queste possano continuare a dare sostegno all'economia, assorbire le perdite, ma al contempo è anche importante non andare a spazzare i problemi sotto il tappeto e non riconoscere il deterioramento nei portafogli bancari. Questo ci consente di vedere effettivamente qual è la situazione in termini di deterioramento e questo è importante proprio per dare sostegno ai clienti. Se guardiamo agli sforzi profusi per la gestione precoce degli NPL, abbiamo fatto tutto questo poiché vogliamo che le banche riconoscano i casi in cui i clienti sono in sofferenza, a prescindere dalla moratoria, poiché se la moratoria esiste da un anno e il cliente comunque non ha pagato, bisogna fare una distinzione, capire se il cliente sarà in grado di riprendere i pagamenti dopo la moratoria oppure se il cliente non è in grado di pagare. Se il cliente non è in grado di pagare, la banca deve allora iniziare una gestione attiva con il cliente, con una ristrutturazione delle posizioni, con un nuovo calendario per il rimborso delle rate. Questo è fondamentale, poiché se questo non viene fatto come abbiamo visto nella crisi precedente, il rischio è quello di un accumulo massiccio di NPL alla fine della crisi. Quindi è importante mantenere questo duplice approccio, ovvero fornire margine di capitale alle banche per garantire che le banche siano in grado di utilizzare le riserve, che non si sentano troppo sotto pressione a causa della vigilanza e questo porterebbe ad una stretta sul credito, ma al contempo devono garantire una classificazione puntuale e precisa dei propri clienti e devono prevedere degli accantonamenti se necessario. Se c'è un default da parte del cliente, questo va riconosciuto. Grazie.